Io mi chiamo Emily Loise Picco e sono qua in Italia per lavorare in un progetto che si chiama Shangri-La. In Brasile noi parliamo portoghese, però non abbiamo differenza di dialetto, solo dell'accento. Siccome è un paese molto grande, l'accento cambia molto tra sud e nord. Il sistema scolastico si inizia alle 6 anni, poi si studia 11 anni fino a 17 anni, tutto la stessa cosa, senza scegliere nessun indirizzo. Con i 17 anni si inizia l'università. Io per esempio studio lettere, però in Brasile il mio corso di lettere dura 5 anni, perché studio sia la letteratura classica che anche la moderna.